per rappresentare il nostro paese il suo paese o Sardegna? è in Sardegna? sul sulci, in Masainas, in Sardegna così si vestiva tradizionalmente? sì, prima si vestiva così nelle grandi occasioni era la vestimenta degli agricoltori? no, questo no, questo è dell'agricoltore questo è degli antichi terrieri, ricco ah ok, questo era il ricco? mentre questo altro che stanno osservando è dell'agricoltore questo è della Masai di casa faceva il pane, le faccende di casa io rappresento il vestito, diciamo, galà cioè, di festa hace quanto si utilizzavano questi vestiti? quanto tempo? quanto tempo atrás? cento anni fa, cento, anche di più ah ok, molto bonito, lo felicito molto bonito, molto hermoso più bello? sì, molto, questo sì, più bello loro invece sono vestiti da sposa sono le ragazze, le signorine che non erano ancora sposate e portavano il velo bianco grazie a voi, arrivederci grazie a voi, arrivederci grazie a voi